Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6 la nostra rassegna stampa che inizia subito come di consueto dai quotidiani regionali e dalle prime pagine allora andiamo a vedere insieme le quattro edizioni provinciali del centro per prima cosa iniziamo dall'edizione di Pescara morto in piscina sport sotto shock il titolo di apertura Francavilla commozione per l'addio all'odonto tecnico di 59 anni che è morto all'interno della piscina di Francavilla al mare per un malore e poi i richiami dal nazionale manovra il governo congela l'iva non ci sarà l'aumento così il ministro dell'economia Piercarlo Padoan a centro pagina sempre stando alle notizie nazionali a Barcellona finisce 0 a 0 bianconeri in semifinale di Champions ciao Messi la Juve vola con la fotografia della squadra bianconera festante dopo il pareggio ieri sera al Camp Nou e poi nelle cronache di spalla arrivando le notizie dalla nostra regione Pescara telecamere contro i ladri di rifiuti e poi Montesilvano Maragno tratta per evitare il commissariamento in consiglio comunale si sta discutendo il provvedimento di bilancio e ci sono problemi all'interno della maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco di Montesilvano nel taglio basso Pescara salvati dalla strada 27 Clochard le vite di Mohamed e altri disperati raccontate dalla Caritas altra notizia invece che arriva da Francavilla stazione ferroviaria assediata dal degrado. Andiamo avanti sempre sul quotidiano il centro questa è l'edizione di Chieti Lanciano Vasto di Primio senza più maggioranza Chieti passa la mozione Udc Forza Italia sui debiti fuori bilancio il sindaco dice siete immaturi e dunque non solo a Montesilvano problemi per il primo cittadino Maragno ma anche a Chieti per Umberto di Primio e poi andiamo a vedere nelle cronache il duplice delitto di Ortona marito omicida colpita al cuore la moglie Letizia ieri si è svolta l'autopsia sulla sul cadavere di Letizia Primiterra sono state 20 le coltellate che l'hanno che l'hanno uccisa e poi a Tessa rubate le auto degli operai allarme in Sevel nel taglio basso università d'annunzio false assunzioni in 5 a giudizio chiedevano soldi in cambio di posti di lavoro fantasma a vasto nozze gay si sposano dopo 20 anni di convivenza andiamo a vedere l'edizione terramana adesso Brucchi il giorno della verità il sindaco senza una maggioranza certa oggi la giunta potrebbe cadere e quindi anche il comune di Teramo in bilico vi ricordo che lo scorso consiglio comunale era stato sospeso e oggi si riprende a discutere ma anche qui la maggioranza vacilla poi di spalla nelle cronache qui taglia due dirigenti imputati di estorsione ancora elezioni Martinsicuro il centrodestra trova l'accordo su Massimo Vagnoni nel nel taglio basto ospedale Mazzini Marteschef a oncologia sfida i fornelli tra dieci donne ricoverate nel reparto e poi a Roseto attesi 5 mila visitatori con il torneo di calcio l'ultima delle quattro prime pagine del centro andiamo a vedere quella di l'Aquila Vezano Sulmona l'Aquila e le 5G guida l'auto del futuro e al tecnopolo d'Abruzzo arrivano due aziende per 110 posti di lavoro nelle cronache fondi sisma presi col trucco 5 indagati l'inchiesta è della guardia di finanza e ancora dall'Aquila Fina presenta la squadra pro Orlando nel taglio basso Celano evade le tasse e finisce nei guai sequestrati terreno e conti correnti ad un imprenditore da Sulmona invece 50 multe in 48 ore e polemica adesso passiamo invece sul quotidiano il messaggero andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo metteremo il turbo alle imprese Alfano a Pescara l'export abruzzese cresce del 10% ora slancio sugli sgravi fiscali nel cratere crollo del turismo dopo le calamità il ministro degli esteri promette di venire in vacanza per dare un segnale e poi innovazione l'Aquila tra le città tecnologiche europee per quanto riguarda le innovazioni nel campo delle telecomunicazioni e non solo poi a centropagina sisma contributi illeciti per le case blitz della finanza l'Aquila cinque proprietari sotto inchiesta ordinato il sequestro di conti e immobili e a centropagina la fotonotizia la madre di Laura buttate le chiavi Ortona mica uccise il funerale di Laura Pezzella devono buttare la chiave Silvana Barbieri madre di Laura Pezzella dice queste parole riferendosi a Francesco Marfisi che a Ortona ha ucciso sua figlia con 50 coltellate. Andiamo a vedere di spalla la sanità nuovi ospedali dal governo arrivano 42 milioni di euro aumentata la quota per i presidi di Avezzano sul Mona Lanciano Vasto e Penne. Nel taglio basso Giulianova se il tombino finisce in tv una donna cammina sul marciapiede di via 24 maggio a Giulianova e finisce nel tombino da cui sgorga l'acqua del condominio Margaret condominio che ha una vertenza aperta con la ditta che ha eseguito i lavori per cui da tre mesi l'acqua sempre più abbondante invade il marciapiede dalla fine si riversi in un tombino più piccolo per arrivare sino al mare un piccolo caso che finirà anche sulla televisione nazionale. Nel taglio alto Pescara parchi devastati il comune dichiara guerra ai vandali e poi i bussi bonifica del sito inquinato il sindaco possiamo partire e poi il calcio di Serie A con il Pescara sempre nel cuore e questo il ricordo dell'ex Savorani contro la Roma rientra Bovo in difesa ma si ferma Campagnaro calcio violento aggredito l'ex dirigente Benassi ora alla maceratese. Cambiamo ancora testata restando i quotidiani regionali andiamo a vedere la città il quotidiano della provincia di Teramo che apre con i problemi della maggioranza nel capoluogo. Brucchi alla prova dei numeri oggi il consiglio comunale decisivo Gatti e Tancredi sono contrari a nuovi rimpasti. Sempre per quanto riguarda questo argomento c'è l'editoriale di Alessandro Misson d'Alberto sindaco e il titolo d'Alberto sindaco in caso di caduta dell'amministrazione guidata dal primo cittadino di Teramo Maurizio Brucchi non Gian Guido d'Alberto campione delle PD e possibile candidato alla prossima tornata elettorale. Parliamo invece di Marcello d'Alberto l'ingegnere di Pineto nominato dalla regione a capo della ricostruzione post terremoto. Sarà certamente lui la persona più importante per il destino di Teramo nei prossimi anni più dell'eventuale commissario che insomma dovesse arrivare nel caso di dimissioni del sindaco. Nel taglio alto ancora la politica l'ordine arrivato da Ginobble e verticelli per quanto riguarda l'accordo che ha portato di Girolamo alla guida del comune di Roseto e poi Alfano a pescare elezioni comunali nessuna alleanza esclusa a priori per quanto riguarda la presentazione di alternativa popolare. Di Spalla Giulianova ospedale il PD incontra D'Alfonso senza il sindaco e ancora nella zona sud il nuovo chalet in arrivo a Tortoreto. E poi a centropagina la sanità iniziamo dalla fotonotizia Teramo indietro sugli standard per le neomamme niente bollino rosa e poi HPV vaccino anche per gli uomini il caso Report a ASL facciamo come negli Stati Uniti. Nel taglio basso il torneo Spiagge d'Abruzzo, Roseto torna capitale del calcio giovanile. E dunque questo per quanto riguarda le prime pagine regionali e allora adesso andiamo ad aprire lo spazio dedicato al nazionale con i titoli dei principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera, un diritto di Renault alle cure, la legge sul fine vita, approvate le prime norme, respinto l'emendamento che escludeva le cliniche private, biotestamento accanimento vietato, sì all'obiezione di coscienza per i medici. E poi il blogger detenuto in Turchia, la solidarietà e gli appelli rilasciate del grande tensione tra Italia e Turchia. Nel taglio alto i 5 stelle, se il report chiude basta canone Malarai va avanti con il programma dopo il caso della puntata sui vaccini. Andiamo sulla Repubblica, biotestamento, legge al via ma si introduce l'obiezione stop all'accanimento terapeutico, polemica per la scelta affidata ai medici. E poi la Turchia, l'intervento del governo italiano, rilasciate subito del grande, la compagna dice arrestato solo perché filmava i profughi. Andiamo adesso sulla stampa, il quotidiano torinese cambia tema per quanto riguarda l'apertura, una regia dietro gli sbarchi record, l'Austria pronta a chiudere il confine meridionale sul Brennero, bloccheremo la rotta che passa per la Sicilia. Migranti, il governo teme un piano della criminalità libica contro Serrai e Roma. A centro pagina la Champions con la fotonotizia, il pari più bello Juve tra le magnifiche quattro d'Europa. I bianconeri dominano il Barça, partita finita 0 a 0 dopo il 3 a 0 dello Stadium all'andata e bianconeri dunque che accedono alla semifinale. Allegri ferma messi con una difesa perfetta. Andiamo ancora avanti, adesso passiamo al fatto quotidiano. Schiaffo turco ma l'Italia porge l'altra guancia. Il caso del grande Erdogan vieta la visita del nostro console al blogger detenuto, visita che però potrebbe essere autorizzata nelle prossime ore. E poi a centro pagina liberazione vendetta anti-ampi del PD che diserta il 25 aprile dopo il referendum assenti anche gli ebrei romani non siete veri partigiani. E poi il caso, il feeling con avvenire, i 5 stelle dialogano con il mondo cattolico, i vescovi non gradiscono. Questa notizia la ritroveremo anche sui quotidiani di centrodestra, vedremo più avanti. Il sole 24 ore, Padoan no ad aumenti IVA, ora tagli credibili sulle tasse. Naturalmente le finanze in primo piano sul principale quotidiano economico italiano. Il ministro, aperti a un confronto sul fisco, il 2017 è iniziato bene, possibile rialzo delle stime del prodotto interno lordo. Banca Italia dice riconsiderare le aliquote sui consumi. E poi ancora, l'economia BCE, crescono i timori sulla liquidità. Da dicembre peggiorate le condizioni sui crediti garantiti da titoli di Stato e derivati OTC, questo dice la Banca Centrale Europea. Il Fondo Monetario Internazionale ammonisce progressi insufficienti nella riduzione delle sofferenze bancarie. Poi una notizia che riguarda la manutenzione delle strade, i crolli dei ponti, polemica sui fondi all'ANAS, servono 2,5 miliardi l'anno, ma la spesa è di 450 milioni di euro. Nel focus del taglio alto, regime di cassa, meno rischi per le società di comodo nel primo anno, rimanenze neutre. Andiamo adesso sul messaggero, il quotidiano romano torna sulla legge per il fine vita, si può dire no alle cure, il titolo di apertura oggi alla Camera, il primo sì al biotestamento, al malato, la facoltà di interrompere la terapia, prevista l'obiezione di coscienza per i medici, stop all'accanimento terapeutico, asse tra PD e Grillini. Il caso Report si avvicina alla sfiducia al DG, Movimento 5 Stelle difende Report, la RAI dice non chiude le accuse dell'ANAC intanto su 55 assunzioni esterne. A centro pagina, più rotte più aeree e forte discontinuità, così cambia all'Italia l'intervista a Gubitosi che dice, ha ragione il ministro Calenda, senza il sì al referendum non ci sarà un futuro per la ex compagnia di bandiera. E poi nella fotonotizia Donald Trump verso un incontro con il Papa, oggi Gentiloni alla Casa Bianca, Trump rivedere le intese nucleari con l'Iran, intese che erano state messe a punto dalla precedente amministrazione guidata da Barack Obama. Il tempo sempre restando ai quotidiani romani, spostiamo la capitale a Milano questa la provocazione, proposta shock dei costruttori romani raccolta dalle categorie produttive, città bloccata, burocrazia, zero investimenti niente, infrastrutture, giunta flop, quasi quasi ci si può fare un pensierino dice il tempo a spostare la capitale d'Italia. Sempre restando le notizie da Roma, oggi in Campidoglio il via libera per la prima gara di formula e semaforo verde all'euro arriva il gran premio. Andiamo sul manifesto ora, senza parole il titolo sulla fotonotizia che riguarda la vicenda del blogger detenuto in Turchia. Erdogan vieta all'Italia di incontrare Gabriele Delgrande, rinchiuso da dieci giorni in un carcere turco, si moltiplicano gli appelli per la sua liberazione ma la repressione della libertà di stampa non si ferma, i giornalisti in carcere salgono a 154 e ieri altri arresti tra le proteste contro i brogli nel referendum che ha dato più poteri a Erdogan. Un referendum vinto tra l'altro con una maggioranza risicata e dove ci sono circa due milioni di voti contestati. Il Movimento 5 Stelle ha un avvenire, il gioco di parole che propone il manifesto su questa notizia, l'esclusiva intervista di Peppe Grillo al quotidiano cattolico torna a fare notizia e ad agitare la polemica politica. Andiamo sull'unità, treno bassa velocità, il titolo di apertura 5,5 milioni di pendolari su treni vecchi di 20 anni, si tagliano le corse, sale il prezzo dei biglietti. Rispetto al 2010 sono stati tagliati il 22,4% degli intercity e il 6,5% dei treni regionali. In tutta Italia ci sono meno chilometri di tranvie e metro che nelle sole città di Londra o Madrid. Questa è l'inchiesta sul trasporto pubblico dell'unità, il quotidiano che fa riferimento al PD. Andiamo sul libero, siamo alla frutta Vescovi e Grillo fidanzati, come vi avevo annunciato in precedenza sui quotidiani di centrodestra, questa notizia della liaison, possiamo dire tra la Chiesa Cattolica e il Movimento 5 Stelle, tiene banco, la pone in primo piano Vittorio Feltri, il no al lavoro domenicale e il reddito di cittadinanza avvicinano CEI, conferenze episcopali italiane e Movimento 5 Stelle, occhio però al bacio di Giuda, guai a fidarsi dei 5 Stelle, in Parlamento votano con i DEM sul biotestamento alla faccia dei cattolici. Poi il conduttore in fuga dal tetto rai dagli stipendi, Fazio tratta con la 7, quanto ci perderà? Si chiede il giornale. Andiamo proprio sul giornale adesso, primo sia la legge morire diventa un diritto, biotestamento si potrà rinunciare a cure ed alimentazione e questa è l'apertura che riguarda appunto il testo della legge sul biotestamento e poi la svolta grillina dei cattolici, altro abbaglio, catto comunista. Andiamo sulla verità, prove di alleanza Bergoglio-Grillo, vedete quasi praticamente tutti i giornali che fanno riferimento all'area di centrodestra, parlo di quelli ovviamente più schierati, hanno posto in primo piano questa notizia, il direttore del giornale dei Vescovi con loro c'è intesa su tre quarti dei grandi temi, un'apertura che può valere parecchi voti e la Chiesa si prepara alle elezioni secondo il quotidiano diretto e fondato da Maurizio Belpietro. E poi 2,8 milioni di poveri in più grazie a questi quattro e si ricordano i governi Montiletta, Renzi e Gentiloni. Poi a centropagina il Ministero, l'auto con targa estera può viaggiare senza assicurazione, incredibile documento del Viminale garantisce la totale impunità alle vetture di 34 paesi. Adesso passiamo al mattino di Napoli, fine vita sia lo stop delle cure, il paziente potrà rifiutare acqua e cibo ma è garantita al medico l'obiezione, il testamento biologico primo via libera contro l'accanimento terapeutico, ok alla terapia del dolore. E poi il CSM, caso Consip a Napoli, fatti gravi, Legnini in procura qualcosa che non ha funzionato così il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, critiche del CSM che però non apre un fascicolo, non c'è scontro con Roma. E poi una notizia che riguarda il calciomercato, Sarri, la Roma e quelle voci avvelenate. Il caso, i rumors di mercato nel bel mezzo della volata Champions. Andiamo sul secolo XIX, il quotidiano genovese apre con l'accordo sul biotestamento, asse PD 5 stelle, approvato alla Camera l'emendamento chiave, oggi atteso il voto finale, il malato potrà interrompere le cure, obiezione di coscienza per i medici. Andiamo su avvenire, DAT, corsa rischiosa, si accelera sul fine vita, forse già oggi il voto finale, sia il rifiuto di cure, un'obiezione per i medici, il dialogo di legge, scusate, il disegno di legge all'esame della Camera, gli ospedali cattolici, e questo il fatto che pone in primo piano avvenire il quotidiano cattolico, gli ospedali cattolici convenzionati dovranno sempre applicare le norme sul biotestamento. Andiamo sul dubbio, vaccini, Movimento 5 Stelle in rivolta, guai a chi tocca report, Fico, basta canone, se dovessero sospendere la trasmissione, la Presidente Rai Maggioni nessun oscuramente, poi il giornalista arrestato in Turchia, del grande non può vedere l'avvocato. Andiamo sul gazzettino, il quotidiano del nord-est, fingeva di vaccinare i bambini, il caso a Roma la procura apre un'inchiesta sugli effetti collaterali, bufera sul report, scontro PD 5 Stelle, intanto un'operatrice sanitaria viene denunciata perché simulava le iniezioni ai bambini, la usle di Treviso, costretta a un richiamo di massa, sarebbero circa 500 i bambini a cui non è stata fatta l'iniezione. Noi adesso andiamo sulla gazzetta del Mezzogiorno, Padoan, acqua sul fuoco, IVA, l'intervento sull'imposta era un'ipotesi, non una mia preferenza, così il Ministro dell'Economia, Emiliano per la chiusura dei negozi il 25 aprile e il 1 maggio, il governatore della Puglia è candidato alle primarie del Partito Democratico per la scelta del nuovo segretario. E poi piano del governo per riaprire subito il centro olio Eni, Puglia e Basilicata, così alle strette sul patteggiamento dell'Ilva. Noi adesso andiamo a vedere i quotidiani sportivi nazionali e ovviamente non poteva essere diversamente questa mattina, si pone in primo piano l'impresa della Juventus che approda la semifinale di Champions, Vola, Juve Vola è il titolo della gazzetta dello sport a Barcellona 0-0 capolavoro ed è semifinale. Il commento di Alessandro De Calò adesso tira aria di triplete, è chiaro che si spiana la corsa verso il titolo per i bianconeri ma bisogna stare con i piedi per terra perché la strada è lunga e ci sono squadre molto attrezzate. Intanto vedete nel riquadro il pianto di Neymar sulla spalla di Dani Alves, l'ex di turno. al Camp Nou prova di forza, disinnescato Messi e pochi rischi, allegri superstar, avremmo potuto giocare un giorno intero e non ci avrebbero fatto gol, Bonucci dice ora ci vorranno evitare tutti. E poi una notizia curiosa, Serenia Williams incinta di 20 settimane, l'annuncio della tennista per questa bella notizia, la gravidanza. Il Corriere dello Sport li avete fatti piangere con la foto di Neymar che piange sulla spalla di Dani Alves, bianconeri perfetti messi a casa 0-0 dopo 15 vittorie di fila in casa per il Blaugrana, Neymar in lacrime, Allegri dice siamo stati grandissimi, Champions, capolavoro Juve, Barça secco al Camp Nou, Allegri vola in semifinale, ora Real, Atletico o Monaco. Andiamo nel taglio basso, Milan scopriamo il nuovo DS rosso-nero, Mirabelli dall'Inter all'ufficio di Gagliani. E poi c'è il contratto, colpo Roma, Jesus Navas, primo regalo di Monchi. Andiamo su Tutto Sport, Invincibili è il titolo sulla foto di gruppo della squadra della Juventus, Champions, Barça fuori, Juve in semifinale, è questo il titolo quasi a tutta pagina di Tutto Sport. E poi il Torino, i bimbi del Toro, Gallo, Resta o le 300 famiglie da tutta Italia hanno consegnato a Belotti foto, lettere, video, messaggi con la preghiera di non andarsene, ci fai sognare la commozione del bomber celebrato anche dal Financial Times. Abbiamo un paio di minuti per andare a vedere anche i quotidiani online, ripartiamo dalle testate nazionali dal Corriere.it. Niente remuntata, una grande Juve vola in semifinale per riallacciarci ai titoli che abbiamo letto poc'anzi sui quotidiani sportivi. I Blaugrana non riescono a ripartare lo 0-3 dell'andata, i bianconeri non soffrono e si difendono con ordine. Ora incontreranno una tra Real Madrid, Atletico e Monaco. Poi l'intervista, cambiamo argomento, Verdelli dovevamo liberare la RAI dalla gramigna dei partiti, non ci siamo riusciti. L'ex dirigente responsabile dell'informazione dimessosi a gennaio, nella seduta decisiva non fui ammesso al dibattito, il mio piano guardava al futuro, tanti hanno detto di no. Estando sempre ai temi della RAI, il programma di Ranucci nel Mirino, Movimento 5 Stelle, sospendere il report sarebbe eversivo, Ranucci credo nei vaccini. Chiarirò quello che viene contestato alla trasmissione report. Andiamo su repubblica.it. La Turchia, il documento audio del grande, la fidanzata, la sua prima telefonata arrabbiato in isolamento. Saviano, Gabriele, la libertà di tutti. Alfano, il governo Turco, liberatelo subito. L'avvocato dice, ci hanno impedito di vederlo. Poi il calcio con la Champions, la Juve vola in semifinale, Barcellona non passa, finita 0-0. Intanto il Monaco ha battuto il Dortmund e poi la RAI. I Verdelli sono stufo delle bugie, ecco la verità sul mio addio. Notizia che abbiamo visto anche in precedenza. Poi il dossier, vi adotti fragili, tanti scandali e 0 colpevoli. Andiamo adesso su i quotidiani online regionali. Partiamo da primadanoi.it. Anas, ancora tangenti, associazione a delinquere, 8 gli arresti perquisizioni anche in Abruzzo per questa inchiesta. E poi confusione, cemento, dolori e debiti. Ecco la sanità di oggi per quanto riguarda sempre il piano di riordino regionale della sanità. Lati oscuri, bonifica di bussi, ecco chi ha vinto l'appalto. Tutti particolari nell'approfondimento che propone primadanoi.it. E poi contraerea, razzi contro Forza Italia e Abruzzo. Ridicoli, senza sede né bandiere, io incontro la gente al bar. Il senatore attacca Pagano e Febbo e li invita a dimettersi. Andiamo su a BR News 24. Titolo di apertura. Credito prescritto, chiesto e rinviare giudizio per l'estorsione per due dirigenti di Equitalia. E poi export al fanno a Pescara bene l'Abruzzo, ma vogliamo mettere il turbo alle imprese. Il duplice omicidio di Ortona. Marfisi ha ucciso la moglie con 20 coltellate per metà dritte al cuore. Questo è il risponso dell'autopsia di ieri. Andiamo su Abruzzo Web. Ospedale Chieti, provincia Vicenza, ICM a norma con diritto al lavoro disabili. L'impresa Maltauro ha temperato alle norme per il diritto al lavoro dei disabili a comunicarle alla provincia di Vicenza con una lettera inviata il 12 aprile scorso al presidente della regione D'Alfonsi e al direttore generale della ASL Lanciano Vasto Chieti, Pasquale Flacco, nell'ambito del carteggio legato al project financing per la costruzione di un nuovo ospedale da 225 milioni di euro e 500 posti letto. Ricostruzione 2009. Ditte si denunciano tra loro per ridurre la concorrenza. Alcuni hanno svelato ai proprietari che i colleghi scelti sono indagati. Noi adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo e poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo dunque ai quotidiani regionali. Ripartiamo dalla pagina Abruzzo del quotidiano Il Centro. Politica in movimento, alternativa popolare, dici siamo pronti al voto. Alfano presente il nuovo partito nato dalle ceneri del nuovo centrodestra. La Chiamaroli commenta, saremo in corsa in maniera autonoma nei maggiori comuni. Il ministro, come primo gesto di attenzione al territorio, c'è stato quello dei nostri parlamentari che hanno detto, zona franca e piena capienza dei fondi per la ricostruzione. Paolo Tancredi, abbiamo intenzione di fare una proposta importante e autonoma per l'Aquila Piccone, restiamo la forza più liberale di questo governo. Andiamo a vedere la presentazione del nuovo partito nel servizio di Francesca Romana Testi. Un'alternativa alla destra, divenuta ormai troppo populista e demagogica, è alla sinistra che vuole creare scontri tra imprese e lavoratori. Un credo verso l'Europa che non può essere abbandonata come professato dal leader della Lega, causa perdita del potere d'acquisto per la svalutazione della moneta. e alleanza con gli Stati Uniti di Trump, grande motore economico per l'Italia. Angelino Alfano oggi a Pescara celebra la nascita di Alternativa Popolare che avvia la sua campagna di tesseramenti per radicarsi sul territorio. Noi siamo qui per dire che puntiamo molto sull'Abruzzo e che come primo gesto di Alternativa Popolare sull'Abruzzo c'è stato quello dei nostri parlamentari in commissione e anche al governo per dire zona franco-urbana piena capienza degli stanziamenti per la ricostruzione in Abruzzo. Un euro in più di quel che serve sì, un euro in meno di quel che serve no. Noi siamo per l'Europa, noi siamo per la Nato, noi siamo per l'alleanza con gli Stati Uniti d'America come elemento fondamentale della nostra politica estera e siamo perché la Russia non venga isolata. un programma di politica estera che è solido ed è ancorato alla tradizione italiana, un programma di politica economica che mette al centro esattamente i bisogni degli imprenditori perché sono gli unici che possono fare le assunzioni. Su questa nostra base programmatica noi costruiremo il nostro futuro e noi ci consideriamo una forza autonoma, popolare, indipendente perché noi non abbiamo bisogno di alleanze per vivere e non abbiamo bisogno di alleanze per lanciare i nostri programmi. Chi non è di sinistra, non ama gli estremisti, non vuole allearsi con chi vuole portarci fuori dall'Europa e dall'Euro e al tempo stesso vuole un programma chiaro su famiglia, impresa, casa, ceto medio e grande questione della povertà sappia di avere trovato l'alternativa. Andiamo avanti, restiamo sempre alla visita del Ministro degli Esteri ieri a Pescara perché Alfano è intervenuto anche a Roadshow alla Marina di Pescara per le imprese. Alfano, le vostre imprese possono mettere il turbo. il Ministro, sosteneremo il sistema dell'export, venire in vacanza in questa terra per me non sarebbe un sacrificio. Ancora andiamo avanti, vocazione globale, la frontiera e l'Oriente, sempre restando ai temi dell'export. Molte imprese hanno individuato nell'Oriente un possibile mercato, soprattutto in quello cinese. e poi, ecco, alternativa popolare, siamo forza indipendente, abbiamo visto prima la presentazione del nuovo partito. Torniamo alla pagina Abruzzo del quotidiano Il Centro, Regione, i costi della politica. Pietrucci, basta vitalizie e stipendi alti. Il consigliere del PD lancia la sua proposta ad Alessandro, tra un mese i tagli. Il Movimento 5 Stelle dice, lo diciamo, da oltre due anni, dove erano finora. E poi, Università, borse di studio per 7,6 milioni, cresce il fondo 2016 destinato all'Abruzzo. L'assessore Sclocco, a maggio faremo scorrere la graduatoria. Nel taglio basso, l'interrogazione, Melilla, interventi urgenti per la sicurezza su A24 ed A25. Andiamo adesso alla pagina di Pescara del quotidiano Il Centro. Morire di sport a 60 anni. Atleti e amici sotto sciocco al funerale di Marinelli a Francavilla, chiesa gremita per l'odonto tecnico colto da un infarto mentre nuotava in piscina. Parola al podista Donofrio per noi amatori, lo sport è svago. E ancora, l'intervista, attenti a non esagerare, gli sforzi sono per i giovani dopo il 50enne morto in piscina. Il medico dello sport ripari avverte, per gli amatori sono sufficienti due o tre allenamenti a settimana. Di più è dannoso. Intanto, per l'Ironman ci sono già 1.300 iscritti, orari, partenze e percorsi. Tante le novità per l'evento in programma il 18 giugno a Pescara. Andiamo ancora avanti sulla pagina di Pescara del quotidiano Il Centro. Alcol nel cammino morta l'ustionata. Cipagatti Maria di Prinzio, 74 anni, era stata avvolta dalle fiamme durante l'accensione del fuoco insieme alla figlia Letizia, di 50 anni, che è ancora ricoverata in gravi condizioni per le ostioni riportate. La mamma purtroppo non ce l'ha fatta. E poi, sventato il colpo all'OVS, furto con la borsa schermata, prese due ladre. Andiamo ancora avanti. Raccolta rifiuti. Sono in arrivo telecamere contro i ladri e abusivi. Del Bianco di Attiva ricorda che il sistema di vigilanza per multare chi ruba materiale pregiato come il rame dai cassonetti o smaltisce il pattume fuori dagli orari sarà subito attivato in Piazza Santa Caterina. E poi Via Pepe sia al mercato di lunedì prima della partita Pescara-Roma. Nel taglio basso, l'ex FEA, il progetto arriverà entro il mese di aprile. La regione annuncia la fine dell'iter per valorizzare l'immobile sul lungomare. Andiamo sulla pagina di Pescara del messaggero e andiamo a vedere questa notizia che invece riguarda Bussi. A Bussi finalmente la bonifica. Il sindaco, la gatta, fiducioso sullo sblocco della gara d'appalto. L'incarico provvisorio ha unati con a capo la begga DECDEME. L'ultimo passaggio consiste nel trasferimento al comune delle aree contaminate per consentire l'uso di 50 milioni di euro. Domani in Consiglio Comunale si discute l'accordo di programma. Intanto si prepara l'arrivo di Filippi. Andiamo adesso sulla pagina di Montesilvano del quotidiano Il Centro. Andiamo a recuperare la pagina di Montesilvano. Maggioranza in crisi, tensione in comune, trattativa per evitare il commissario sospeso. Il Consiglio è decisivo sul bilancio. Discussione a oltranza tra Maragno e Agliano sui nuovi assessori. Si torna in aula domani. Questo per quanto riguarda la politica di Montesilvano e il Sindaco Maragno. Stiamo approfondendo i temi dei migranti, i nuovi progetti per il centro della città. Troveremo un accordo. Il retroscena, Sindaco sotto scacco dei ribelli. Dietro le manovre c'è Tereo. Ecco chi sono i sei dissidenti che fanno pressioni sull'amministrazione. Gli ex alleati di Cordo, Madame Usa, da Ventura ora passati all'opposizione. Proprio il gruppo Hashtag Montesilvano 2019 ha sottoposto alcuni punti al Sindaco che si è detto certo di poter trovare la sintesi e un accordo. Allora andiamo ad ascoltare proprio il Sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno. Sindaco, riuscirà a tenere unita la maggioranza per evitare che la sua giunta debba andare a casa? Stiamo lavorando, come sempre seriamente, per risolvere i problemi della gente. È normale, del tutto fisiologico, che nell'avvicinarsi della seduta di bilancio ci possano essere delle frizioni, dei malcontenti, perché ovviamente e oggettivamente non tutte le posizioni sono condivisibili né possono essere avvalorate. Fa parte del gioco delle parti, lo sappiamo, stiamo lavorando anche per comporre le fratture, quindi credo che il bilancio darà i suoi frutti con l'approvazione, soprattutto per quelli che sono i contenuti di questo bilancio, che è un bilancio davvero di qualità, che contiene davvero delle iniziative che daranno il rilancio di questo territorio. Quali sono le linee guida? Intanto partiamo da un sistema antiallagamento, perché andremo a finanziare finalmente tutti quei lavori per eliminare gli allagamenti che ogni volta ci sono, ogni qual volta dovesse piovere un po' più del consentito nella zona del lungomare. Poi le risorse per l'attivazione degli sprare, che sono dei centri di seconda coaglienza per i migranti, per ridurre il numero di migranti sul territorio e tra virgolette obbligarli a fare lavori socialmente utili per un territorio che li ospita. E poi il discorso della differenziata porta a porta spinta su tutto il territorio comunale, che è una necessità, oltre che un obbligo di legge, per un territorio che vuole avere una marcata vocazione turistica, così come tutte le iniziative tendenti a valorizzare Montesilvano sia nel contesto nazionale che internazionale, proprio per enfatizzare la ricettività turistico alberghiera che Montesilvano offre. Proseguiamo con le notizie dall'area metropolitana. Aggredisce i poliziotti e fugge con le manette. Un nordafricano bloccato al confine tra Città Sant'Angelo e Silvi rifiuta il controllo e si oppone al personale della mobile. Prima di sparire, getta la droga. E poi impianto fanghi, solo attacchi strumentali. Città Sant'Angelo, sinistra italiana contro l'opposizione, difende il no alla piattaforma a piano di sacco. E poi, come cambia la sanità pubblica, tagli e risorse, il piano piace ai sindacati. Presentato l'atto aziendale della ASL, la conferenza dei sindaci accetta con riserva il sì delle parti sociali tra pochi giorni. Penne il no del sindaco. Troppe penalizzazioni per l'ospedale San Massimo. L'investimento è di 12,5 milioni. L'atto aziendale della ASL di Pescara non ha previsto solo la riorganizzazione dei reparti. Nero su bianco, il general manager Mancini ha infatti inserito anche la ristrutturazione da 12,5 milioni. Il sindaco però non è soddisfatto di quanto stabilito all'interno dell'atto aziendale. Poi, Popoli, il cratere sismico salva tutti i reparti. Tutti soddisfatti a Popoli della proposta contenuta nel nuovo atto aziendale della ASL. Considero positivo, afferma Concezio Galli, il sindaco di Popoli, che esso ripeschi i contenuti del decreto legge del 2017, che stabilisce che la struttura di Popoli è sita nel cratere sismico e possa godere della moratoria di tre anni dal decreto Lorenzin. Visto che abbiamo intravisto la pagina di Chieti, ci andiamo subito perché è altra crisi che si è aperta, quella nel comune di Chieti. Crisi in comune passa la mozione di Udc e Forza Italia di primio. Senza maggioranza l'aula contesta i depiti fuori bilancio. Il sindaco dice non siete maturi. E poi sempre dalle cronache di Chieti, marito assassino, 20 coltellate alla moglie, delitti di Ortona, Marfisi ha colpito primi terra al cuore. Ieri anche i funerali dell'amica Pezzella. Restiamo sempre alla pagina di Chieti, ma cambiamo testata adesso. Passiamo al messaggero. Andiamo dunque a recuperare la pagina teatina. Formichetti al contrattacco, strade sicure grazie al giro e l'apertura di questa pagina. Il promotore della tappa ciclistica non nasconde lo sconcerto per le critiche. Il caso innescato a Breccialora è la regione che paga gli asfalti. E poi comune nuova spaccatura nella maggioranza. Abbiamo visto in precedenza questa notizia. E poi la pagina di Lancianova Stortona. La mamma di Laura, buttate le chiavi. Ieri i funerali della Pezzella, massacrata con 50 coltellate da Marfisi. Silvana dice, donne, dovete farvi sentire. Io ho tanta rabbia addosso. Nessun perdono per il killer all'esterno della chiesa di San Giuseppe. Ma il sacerdote dice, sembra impossibile. Eppure un giorno ci sarà. Applausi all'uscita della barra coperta di rose. Il parroco, i due figli, le vittime più piccole di questa follia. E poi l'autopsia che è stata condotta ieri dal medico legale Pietro Falco. Letizia, uccisa con 20 fendenti. Dieci l'hanno raggiunta al cuore. Questo per quanto riguarda la moglie di Francesco Marfisi. Adesso andiamo a vedere la pagina dell'Aquila. Restiamo sempre al quotidiano il messaggero. Sindaco, Perilli o Cimoroni per la sinistra. Rifondazione intensifica le trattative con l'Aquila Chiama. Si cerca la convergenza su uno dei possibili candidati. Primarie del Partito Democratico. Depositati quattro nomi della mozione Orlando al congresso Fina di Giovan Battista, Albano e Fasciani. In caso di mancato accordo tra il partito, quindi tornando alle trattative fra Rifondazione e l'Aquila Chiama, tra il partito e la lista civica, ciascuno porterà alle urne il suo esponente. E poi Ama del Re prorogato per tre anni. Piccinini, decisione inopportuna. Nel taglio basso, le inchieste sul terremoto. Contributi illeciti, cinque nel mirino. Autocertificazioni di danni per la prima casa, ma loro avrebbero abitato in altri alloggi. Andiamo avanti. Connessioni e tecnologie. L'Aquila diventerà un modello in Europa. Sperimentazione 5G di Filippo di Qualcomm e Pisino di FCA. I grandi player sono interessati a fare ricerca ed investire qui dall'Università ai sottoservizi e ai laboratori. Straordinaria concentrazione di risorse. Il sottosegretario Giacomelli dice noi i primi abbiamo davanti prospettive incredibili. E ancora impianti. Save Grand Sasso contro la Campo Nevada. Progetti su terreni vitali per lo sviluppo del piano d'area. Si blocchi tutto in attesa del giudizio sulla proprietà. Andiamo nella pagina di Avezzano Sulmona. Celano e Lutto. Oggi l'addio a Lucia. Le 16 funerali della giovane morta nell'incidente stradale a Sora. Forse la distrazione la causa del terribile schianto contro un furgone. L'avvocato Frigioni. Ai giovani dico attenzione quando siete in auto. I messaggi degli amici riempiono il profilo Facebook della Trentenne. D'Avezzano un'altra inchiesta. Questa volta per le tasse evase. Sequestrati 340 mila Euro ad un imprenditore per false fatturazioni. Andiamo avanti con il giornale. Ma adesso cambiamo pagina. Andiamo ad aprire la pagina sempre del messaggero, ma questa volta di Teramo. Crisi di maggioranza. Alta tensione. Il commissario no. Non è un male. Guido Campana della Civica al centro. Ormai il modello Teramo è fallito. Futuro in Caccioni. Parole grottesche. Non ha mai partecipato alle riunioni. Oggi il consiglio è decisivo per le sorti del Brucchi Quater. che punta subito all'approvazione del progetto rettorato. Andiamo a vedere anche le pagine interne della città. Sempre restando al Teramano. La crisi in comune. Il sindaco fa appello al senso di responsabilità. La maggioranza brucchia la prova del voto. Se non avrà più i numeri sarà commissariamento. Vedremo cosa accadrà nel Consiglio Comunale di oggi. Impossibili ulteriori rimpasti. Il sindaco Brucchi ora è solo. Gatti e Tancredi non sarebbero più disposti a trattare il destino del palazzo nelle mani dei tre responsabili. E qui vengono ripercorse in questo schema le tappe del secondo mandato davvero tormentato per il sindaco Maurizio Brucchi. Andiamo ancora avanti sulla città. Andiamo a vedere le altre notizie. La sanità a Teramano non è a misura di donna. Dati su cui riflettere per le future mamme nel giorno d'inizio del congresso regionale di ginecologia e ostetricia. Poi sanità 42 milioni in più per i nuovi ospedali abruzzesi. Questo è l'annuncio dell'assessore Silvio Paolucci. Andiamo ancora avanti. Il caso report vaccini HPV. Anche i luomini dovrebbero vaccinarsi. La direttrice sanitaria della ASL di Teramo, Maria Mattucci, interviene sul caso scatenato dalla trasmissione report. Un'eresia a negare l'efficacia del vaccino anti-HPV per l'insorgere del cancro. È antiscientifico e privo di ogni fondamento. Ancora due progetti sociali per il Conservatorio Braga. Musica in carcere all'ospedale per celebrare il 122esimo anniversario della fondazione dell'istituzione cittadina. Vediamo questa iniziativa nel servizio di Tania Bonici Castelli. Il Conservatorio Braga di Teramo compie 122 anni. Un'istituzione prestigiosa e storica in Abruzzo recentemente statizzata con 250 allievi ed un corpo docente tra i migliori in Italia. Traguardi importanti che il Braga vuole festeggiare con una stagione musicale che apre al sociale, portando la musica direttamente a chi è meno fortunato, ai malati dell'ospedale Mazzini e ai detenuti del carcere di Castronio. Era uno dei nostri obiettivi due anni e mezzo fa quando ho cominciato il mio mandato, sembrava un sogno e invece è diventata realtà. Quindi in due anni e mezzo il Braga ha fatto davvero passi da gigante e la statizzazione ci ha cambiato proprio la vita in maniera positiva, certamente. Quindi possiamo da quest'anno, già in parte abbiamo fatto lo scorso anno, investire con nostre risorse, con nostre forze sul territorio. Saranno due progetti distinti, Braga per il sociale che prevede dieci concerti presso l'ospedale. Partiremo il 21 con la nostra orchestra sinfonica, diretta dal nostro direttore, fino a fine dicembre. Saranno dieci concerti, due con orchestra, quattro in pediatria e quattro in altri reparti. E poi il carcere. Il Braga ha statizzato e riprende il suo cammino? Finalmente, nel senso che il mio insediamento è avvenuto circa un anno e mezzo fa. Devo dire che adesso finalmente possiamo svolgere la nostra funzione istituzionale. La nostra funzione istituzionale che è quella di fare musica, cioè di organizzare per la città, per la nostra comunità, per la provincia, dei progetti musicali seri, dei progetti musicali che vanno a colpire il sociale e soprattutto per i nostri allievi, per i nostri docenti, di dare quel prestigio che il nostro conservatorio dovrebbe mantenere nella nostra città. Da questo momento iniziamo una programmazione, guardiamo sicuramente al futuro e il futuro lo vedo veramente radioso. Tra le novità del palinsesto musicale del conservatorio Braga spiccano appuntamenti di musica jazz imperdibili. Andiamo avanti dalla pagina di Giuliano Amosciano della città ospedale. Il PD incontra D'Alfonso e destromette il sindaco Mastro Mauro. Il governatore accetta l'invito di Filipponi dopo aver dato buca al sindaco il tavolo. Ieri una delegazione del PD giuliese ha strappato diversi impegni al presidente della regione proprio sul nuovo ospedale, sullo sfondo. l'uscita dal PD del sindaco di Giuliano Amosciano Mastro Mauro. Adesso invece apriamo la pagina dello sport e dunque cambiamo decisamente argomenti. Andiamo a visualizzare l'apertura dell'Abruzzo Sport del quotidiano Il Centro. Calcio e finanza, linea verde e paracadute. Il Pescara pensa al futuro e il Monte Ingaggi sarà molto più basso dalla Lega in arrivo 10 milioni. Il costo degli stipendi diminuiranno con i tanti addi tra i quali quelli di Bizzarri, Campagnaro, Montari, Gilardino, Baebec, Caprari e Verre. Si investirà sui giovani, questo nel futuro del Pescara secondo il centro. Poi verso la sfida di lunedì il personaggio d'Agostino senza dubbi Zeman è una garanzia. L'ex Biancazzurro scoperto dal Boemo ai tempi della Roma. Intanto rientra Stendardo, si ferma Campagnaro. Oggi doppia seduta di allenamento dopo i tre giorni di riposo concessi ai giocatori del Pescara. La buona notizia è rientro di Stendardo. Quella brutta è lo stop di Campagnaro a causa di una tendinopatia achillea sulla gamba sinistra, anche se l'argentino dovrebbe farcela. Andiamo a vedere anche l'apertura dell'Abruzzo Sport del messaggero. Allora andiamo a recuperare la pagina. Pescara sempre nel cuore. I ricordi di Savorani, oggi preparatore dei portieri della Roma. Indimenticabile la cavalcata del 92 con Allegri, Pagano e Massara. Zeman è stato chiamato per progettare la prossima stagione. Pesano gli scontri diretti. Se non si vincono, diventano decisivi. E quindi poi ritroviamo il notiziario. Rientra Bovo in difesa, ma si ferma Campagnaro. Il calcio violento. L'ex dirigente Benassi è aggredito a Macerata. Ancora episodi di violenza in Lega Pro e ancora una volta ex Biancazzurri coinvolti. Ritroviamo anche la Lega Pro con l'ex Carcalis e dunque il Teramo. Tre vittorie alla portata dei Biancorossi. Il difensore titolare contro la Maceratese. Dobbiamo scendere in campo con il coltello tra i denti. Andiamo a vedere anche il titolo del quotidiano. Il centro proprio sulla Lega Pro. Carcalis carica. Teramo adesso ti voglio agguerrito. Domenica c'è la Maceratese. Parla l'ex dei Marchigiani. Tre vittorie alla portata. Ugolotti sorride. Spighi infatti recupera. Vediamo anche sul Teramo come titola il quotidiano La Città. e andiamo a recuperare la prima pagina dello sport. L'ex Carcalis. Il Teramo avrà fame di punti. L'esterno lo scorso anno alla Maceratese. Hanno cambiato molto. Noi abbiamo qualcosa in più da perdere. Domenica nel rush finale per la salvezza. Partita fondamentale quella dell'Elvia Recina alle 16.30. Andiamo ad ascoltare le parole di Carcalis. Il calcio è fatto di annate. L'anno scorso è stata un'annata più che positiva. Quest'anno è un'annata con un po' più di difficoltà. Però dobbiamo guardare il presente. Dobbiamo guardare che rimangono tre partite. E cercare di raccogliere il massimo. Ovvero nove punti. Poi se le squadre sopra noi saranno brave a tenere il passo. Tanto di cappello. Se no vedremo l'8 maggio i frutti di queste tre partite. Vedremo il momento a farsi. La Macerate ha cambiato sia società, sia staff tecnica. La maggior parte dei giocatori non ci sono più. Però anche la Maceratese di quest'anno, comunque guardando il campionato, nonostante appunto come dicevi tu, i problemi economici, i problemi societari, stanno facendo un bellissimo campionato e tanto di cappello a loro. Sicuramente noi dovremmo avere più fame. Perché tra virgolette siamo noi quelli che abbiamo qualcosa da perdere. Loro potranno giocare più spensierati. Anche se comunque stanno lottando per un obiettivo importante come quello per il play-off. Però diciamo loro il loro obiettivo già l'hanno raggiunto. Noi ancora no. Quindi sicuramente dovremmo avere più fame e scendere in campo sempre tra virgolette con il coltello tra i denti. Io penso che con tre vittorie che secondo me sono perfettamente alla nostra portata arriveremo a 44 punti e penso se non al 100%, al 99% ci sarà la salvezza diretta. Quindi per il momento ancora io personalmente come tutta squadra ancora non entriamo nell'ottica di pensare play-out. Serie D adesso. L'Aquila si rivedono i giocatori ammutinati dalle pagine del centro. Dopo un mese e mezzo sono tornati in gruppo i sei rossoblu andati via dopo le dimissioni di Morgia. E ancora il giudice sportivo Avezzano, Leto e Pollino saltano l'Arzachena per squalifica. Andiamo sul messaggero adesso a vedere le altre notizie di sport. Partiamo dal basket di A2. Roseto ai play-off. Sherrod entra nella Heat Parade con un'iniziativa benefica. Il primo disco intitolato Italian Journey. Poi sempre per il basket di A2. Proger obiettivo salvezza, fiducia a Davis e Golden. NDS Brandi Marte. Sperare non costa nulla. Dobbiamo giocarcela. Scendiamo ancora. Tre azzurri pescaresi sul tetto del mondo. Francesco Leocata, Simone Di Giovanni e Matteo Simoni. Griffano la storica vittoria della nazionale Fisdir in Portogallo. Per quanto riguarda il calcio a 5. Sono tesserati col parco dei Reis allenati da Ruggero Visini e Maurizio Dottavio. Poi ancora a calcio a 5. Loretta Prutini inizia la risalita a Fois & Company promossi in C2 per il basket. Nuovo basket aquilano. Brillano gli under a Vienna. Torniamo alla serie D. Lavastese chiediamo comprensione ai tifosi. Lavastese ha ripreso gli allenamenti. Mentre martedì i dirigenti con un comunicato hanno inteso fare delle precisazioni. Soprattutto chiarezza sui programmi futuri in merito a notizie apparse su alcuni organi di informazione. Nonostante ne siamo una neopromossa, scrivono nella nota. La scorsa estate abbiamo chiesto al direttore sportivo di allestire un organico per competere nei quartieri medio-alti della classifica. Dunque una vastese che a detta dei dirigenti punta sempre in alto. Poi ancora alla serie D. L'Aquila tornano i dissidenti ma forse per evitare addebite. Notizie che abbiamo visto anche in precedenza. Noi ci fermiamo con la nostra rassegna stampa. Mattino 6 termina qui per tornare domani alle ore 7. La nostra informazione invece con il TG6 delle 14, delle 19 e delle 23. Grazie per essere stati con noi. Vi auguro una buona giornata. Grazie per essere stati con noi. Grazie per essere stati con noi.